E' come due da tirarsi un film, questo anche no per un sovrappeso di cinema e il film è scoppiato per la qualità dell'arsenale tecnico, per un film troppo generoso credito produttivo, per una teoria del linguaggio cinematografico che non è riuscita a concretizzarsi in pratica, per invenzioni visive in sovrabbondanza, per la scrupolosità maniacale con cui è stato condotto, per le idee narrative che si sovrapponevano l'una all'altra. In ogni caso vorrei ringraziare Veronica senza i cui sottotitoli non avreste capito un cazzo e in particolar modo Dorothy per questi video introduttivi, film troppo ambiziosi, forse quanto l'affaire.